La legge parla di voti validi. La domanda è quali sono, come si calcolano i voti validi? Quali sono? La legge precedente, nella quale non c'era trascinamento di voti dalle liste al sindaco, chiaramente indicavano i voti validi quelli di lista. La legge attuale indica come voti validi i voti che hanno ricevuto i candidati al sindaco. Questo nel contesto ragusano crea un fatto oggettivo che alcune liste che hanno avuto, una lista che ha avuto riconosciuto il seggio, cioè insieme, in realtà non supera il 5%. Ragusa prossima che ha superato il 5% è la lista che ha il resto maggiore e quindi Ragusa prossima avrebbe diritto al secondo seggio. Si ha ormai una giurisprudenza consolidata attraverso la quale il Consiglio di Stato riconosce nei voti al sindaco la caratteristica appunto dei voti validi. A livello siciliano in realtà non abbiamo precedenti perché il legislatore ha innovato di recente, siamo nella legge nel 2016 e da questa data il percorso è stato di continuità con la legge precedente per cui si è continuato a calcolare il 5% sui voti validi delle liste.